Luca Francesco Luca Francesco Questo... Avrei tantissimi dati, ci vorrebbero probabilmente ore e ore per spiegare, però mi faccio vedere alcune persone che sto studiando che fanno restrizione calorica senza malnutrizione, mangiano il 100% delle vitamine, dei sali minerali necessari per la salute, queste persone mangiano all'incirca 1800 calorie al giorno, in media, hanno un profilo cardiometabolico fantastico, col colesterolo a 160 totale, l'LDL 84, l'HDL 65, trigliceridi a 60, la pressione anche nelle persone che hanno 70 anni, 80 anni e di 100 su 60, quindi la pressione di un ragazzino, quindi non è vero che man mano che invecchiamo la pressione aumenta, la pressione aumenta perché è il nostro stile di vita occidentale che fa aumentare la pressione arteriosa, che è un fattore di rischio per ictus, per scompenso cardiaco, infarto del miocardio, hanno una glicemia bassa e una proteina ciriattiva che è un marcatore di infiammazione praticamente quasi indosabile, quindi non hanno infiammazione. Abbiamo misurato lo spessore delle carotidi, hanno le carotidi pulite, quindi non hanno aterosclerosi che è la prima causa di morte nei paesi occidentali, il 35% delle persone in Italia muore di un infarto, hanno un cuore misurato con l'ecocardio più giovane, più elastico, quindi c'è meno fibrosi, c'è meno processi degenerativi del cuore e poi abbiamo misurato tutto un insieme di fattori ormonali che sappiamo essere implicati nella patogenese di tumori, colon, endometrio, prostata, mammella, fegato. Hanno meno insulina, hanno meno fattori di crescita, circolanti, meno testosterone estradiolo, meno infiammazione, meno stressidativo, quindi probabilmente anche il loro rischio di tumore di sviluppare un tumore è molto più basso che nelle persone normali. Abbiamo fatto delle biopsie per andare a vedere cosa succede dal punto di vista cellulare e quello che abbiamo visto è che in queste persone hanno un profilo di espressione geniche, cioè i loro geni sono simili a persone che hanno 25 anni di meno e questo è complicato però ve lo riassumo in soldoni. Cioè quando facciamo l'esterno calorica c'è l'inibizione di queste vie di segnale che si chiamano insulin, la G1 pathway, che aumenta questo fattore che si chiama FOXO che è un gene pro longevità. Perché è un gene pro longevità? Perché quando attiviamo FOXO nel nucleo, attiviamo autofagia, quindi le cellule iniziano a mangiare parte del citoplasma ma non mangiano in maniera random, mangiano per primo le proteine disfunzionanti e gli organelli che non funzionano più, quindi le eliminano per produrre energia e così facciamo pulizia in casa. Aumenta questo gene, i geni che fanno il riparo delle DNA, quindi riducono il rischio di mutazioni e di cancro, aumentano degli enzimi antiossidanti come la SO2 e inibiscono la proliferazione cellulare che è uno dei fattori importanti per il cancro. Quindi per farvi capire come un intervento nutrizionale semplice a livello cellulare mette in atto tutto un insieme di cascata molecolare cellulare che ringiovanisce le cellule fondamentalmente. Ok, facciamo un altro passo avanti adesso, veloce. Uno appunto è quello di ridurre l'introito calorico ad ogni pasto, quindi diciamo del 20% l'introito calorico ad ogni pasto. Un'alternativa che stiamo studiando invece è quello di fare il digiuno intermittente. Negli animali d'esperimento lo sapevamo che se tu fai mangiare un topolino un giorno sì e un giorno no, un giorno sì e un giorno no, questi vivono fino al 30% in più e sono protetti da tutte le patologie tipiche, tumori, malattie cardiovascolari, diabete e via dicendo, sono più resistenti allo stress. Questi qua sono parecchi esperimenti che dimostrano questo, quindi è un dato abbastanza consolidato. I meccanismi sono veramente complessi, ci vorrebbe appunto un'altra lezione per spiegarvi i meccanismi, però giusto per lasciarvi un messaggio, perché noi abbiamo fame? Abbiamo fame perché c'è un ormone che si chiama grelina prodotta dallo stomaco, che quando non mangiamo viene prodotta dallo stomaco, va in circolo, arriva all'ipotalamo e segnala a dei neuroni che regolano l'appetito il senso di fame, quindi uno fondamentalmente gli viene alla fame e mangia. Quello che abbiamo scoperto è che questo ormone della fame che si chiama grelina ha un potentissimo effetto antinfiammatorio, cioè praticamente riduce drasticamente l'infiammazione. È un lavoro pubblicato da un mio collega che si chiama Deep Dixit di Yale su JCI. Quindi ci sono tante altre cose, però appunto non ho il tempo di entrare nel dettaglio. Il messaggio che voglio dirvi è fondamentalmente avere un po' di fame fa bene. Quando avete un po' di fame non correte subito a mangiare. Ricordatevi che un po' di fame, non uno che non ce la fa più, però un po' di fame significa che c'è la grelina attivata e tante altre cose che stanno praticamente riducendo l'infiammazione, proteggendo dallo sostitutivo. Quindi un po' di fame fa bene, il concetto da portare a casa. Alcuni di voi mi hanno chiesto, memoria fantastica, se lo studio che sto facendo negli Stati Uniti era finito. Sì, è finito, però non corrono i dati, li stiamo analizzando in questi giorni, parte di questi dati. In questo studio praticamente abbiamo fatto, abbiamo per sei mesi e poi altri sei mesi di follow up, abbiamo randomizzato le persone a fare due o tre giorni di digiuno alla settimana. Non è un digiuno di solo acqua, è un digiuno a base di vegetali, potevano mangiare verdure cotte e crude a volontà, non patate naturalmente, condite con un cucchiaio di oliva. All'incirca con questo regime mangiano 500 calorie al giorno, che su base settimanale è una restrizione del 23%, quindi una bella restrizione. Le persone perdono peso bene, alcune perdono anche 15 kg in sei mesi e la cosa bella è che non devono contare le calorie. Quei due o tre giorni non consecutivi che mangiano questa dieta non devono contare le calorie, perché se mangi solo verdure con un cucchiaio di oliva non conti le calorie, gli altri giorni mangi normalmente. Purtroppo i dati sono ancora in analisi, non li ho, fra un mese o un mese e mezzo dovremo avere tutto pronto per una pubblicazione. L'altra possibilità, perché naturalmente qui siamo diversi, ogni persona ha le sue predisposizioni, le sue scelte, che stiamo studiando è quello che viene chiamato in inglese Time Restricted Feeding, che tutto sommato è un concetto antico. Nel Medioevo uno dei detti era colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. Il sesto degli otto precetti buddhisti obbliga i monaci e raccomanda i laici dall'astenese dal consumare cibo dopo mezzogiorno. Cioè i monaci buddhisti, quelli ortodossi, dovrebbero mangiare tutto tra il sorgere del sole e quando il sole è al picco, dopodiché non devono mangiare più niente. Quindi vedete che è un concetto antico fondamentalmente di diverse tradizioni culturali, quello di non mangiare dopo una certa ora e quindi mantenere l'organismo a riposo per il più lungo tempo possibile. Quello che abbiamo visto nei modelli animali è che gli animali di esperimento che gli facciamo mangiare in una finestra temporale limitata hanno meno diabete, meno obesità, meno malattie cardiovascolari, mentre quelli che mangiano tutto il giorno hanno appunto più predisposizione a queste malattie. E c'è un primo studio di alcuni colleghi israeliani che fanno vedere che nelle donne che hanno sindrome dell'ovaglio policistico con nessuna resistenza, vedete che le hanno randomizzate a due diete con le stesse calorie, 1800, però in un gruppo, il gruppo del breakfast mangiava la maggior parte delle calorie, 9,80 a colazione, 6,40 a pasto e 190 la cena. L'altro invece mangiava 190 a colazione, 6,40 a pranzo e 9,80 alla cena all'opposto. Quelle del breakfast a parità di calorie hanno avuto più perdite di peso, una riduzione maggiore della glicemia sia a digiuno che dopo il carico di glucosio e una riduzione del 50% del testosterone e molte di queste sono guarite dalla sindrome dell'ovaglio policistico. Cioè per farvi capire come soltanto la variazione della distribuzione delle calorie durante il giorno ha un effetto spaventoso dal punto di vista metabolico. Questo è uno degli argomenti più hot che ci sono in questo momento nella scienza, tra le persone come me che studiano queste cose qui perché è veramente affascinante il che suggerisce che una calorie non è una calorie, che la distribuzione dei pasti sono fondamentali. Gli studi sono ancora in corso, unica cosa da portare a casa è sbagliato continuare a mangiare. Tanti piccoli, cioè continuare a mangiare ogni ora, a mangiare qualcosetta la sera, dopo cena, davanti alla televisione. Assolutamente dovete cercare il più possibile di limitare entro 8-9 ore tutto quello che mangiate e magari la sera a farvi un'insalata leggera. Questo probabilmente è la cosa più ottimale, più vicina alla restrizione calorica senza fare restrizione calorica. Bene. L'altra domanda è ma la qualità della dieta è importante o soltanto le calorie, la distribuzione delle calorie che sono importanti? Poi negli altri giorni o durante il giorno possiamo mangiare quello che vogliamo? Possiamo mangiarci metà hamburger, metà pacchetto di patatine fritte, metà bevanda zuccherata e va bene lo stesso? Chiaramente la risposta è no, la qualità è importante tanto quanto la quantità e la distribuzione. Vedete, adesso vi farò vedere un po' di evidenza, anche qui devo comprimere perché altrimenti dovremmo andare avanti per 2-3 ore per spiegare tutti i dati, però quello che ormai è abbastanza solido è che la dieta dovrebbe privilegiare i cibi di origine vegetale e ridurre quelli di origine animale. Vi farò vedere un po' di dati. Queste qua sono le linee guida della European Code Against Cancer, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'Agenzia per la Ricerca sul Cancro e tra i vari punti vedete che dice consumare abbondantemente cereali integrali in chicco, legumi, verdure e frutta, limitare i cibi ipercalorici, zucchero e grassi ed evitare bevande zuccherate, evitare le carni conservate, limitare le carni rosse e i cibi ricchi di sale, limitare il consumo di bevande alcoliche. Queste qua sono praticamente le linee guida della VCRF, l'Organizzazione Mondiale per il Cancro e della Comunità Europea. Un po' di storia. Voi sapete che la dieta mediterranea, che è patrimonio dell'umanità, è stata praticamente non scoperta perché esisteva, ma questo scienziato che si chiama Ansel Keys, di cui parlava prima il collega, era un americano che era venuto in Europa per un congresso e raccontava ad allora il professor Fidenza di Napoli che c'era un'epidemia di infarti del miocardio in America spaventosa, questo negli anni 50, c'era tutta questa gente che moriva giovane di infarti del miocardio. E sto guardando in Napoli e diceva guarda che da noi non ci sono infarti, ma non ci credo, fa bene trovarmi a Napoli. Insomma questo l'anno dopo prende la macchina, era in Inghilterra, prende la macchina, scende in Italia con la moglie e quando arriva a Napoli, va al Cardarelli e non c'erano infarti del miocardio, solo qualche nobile napoletano aveva qualche problema di cuore. La gente normale non aveva infarti del miocardio. Insomma iniziò a fare delle ricerche e guardate qui quello che scrive in questo articolo del 1954, la dieta dei napoletani era meat, fish, milk, cheese and eggs, cioè carne, pesce, latte, formaggi e uova erano cibi di lusso. La grande maggioranza della dieta era fatta da pane e pasta, fatta in casa aggiungo io perché naturalmente ai tempi era così, con farine integrali e vegetali locali. Zucchero e patate erano cibi mangiati in very small, piccolissime quantità e il burro non era mai usato, si usava l'olio d'oliva extravergine in Italia giustamente. Frutta e piccolissime quantità di formaggio erano mangiate quasi regolarmente. Questa era la dieta mediterranea del 1950 quando l'infarto del miocardio praticamente era sconosciuto, cosa che non è più a Napoli al giorno d'oggi, anzi forse più alto che in altre parti del mondo per l'obesità nei bambini. Vedete i cereali integrali che erano praticamente la base della dieta mediterranea? Si sa da alcuni studi che per ogni porzione, per ogni 30 grammi di cereali integrali si diminuisce del 17% il rischio di morte per varie malattie e ci sono altri studi che fanno vedere che per ogni porzione di legumi mangiati 2-4 volte alla settimana si riduce del 10-30% la mortalità per le principali cause di morte. Quindi il messaggio è tornate a mangiare un sacco di cereali integrali, non pane bianco, pasta bianca, le principali integrali e legumi. I legumi fanno bene, li abbiamo dimenticati, si mangia adesso forse la zampone con le lenticchie a Capodanno e basta. Fanno benissimo. L'altro messaggio è che le verdure fanno stra bene, sono diversi studi pubblicati che fanno vedere tipo epiche, questo qua europeo, che gli ortaggi soprattutto riducono il rischio di malattie cardiovascolari, tumulari, respiratorie. Quindi bisogna assumere molti vegetali e soprattutto si è visto che la varietà dei vegetali, non bisogna mangiare soltanto l'insalatina, il pomodorino, ma quello che si è visto da questi studi è che se si diversifica il più possibile c'è un effetto aggiuntivo nella prevenzione di tutte le patologie croniche. Quindi diversificate, non mangiate sempre le stesse verdure e la stessa frutta. L'altro concetto, vabbè, questo ve l'ho fatto vedere dalle linee guida, bisogna stare il più possibile lontano da dolci, dolciumi, carni, soprattutto le carni insaccate, il che significa che non è che bisogna mangiarne zero, bisogna mangiare ogni tanto, cioè ogni tanto uno va fuori e si mangia qualcosa, ma non regolarmente come si fa al giorno d'oggi, uno non sa cosa fare, apre il frigorifero, giù insaccati e via dicendo perché non c'ha voglia di cucinare. E giusto per farvi vedere velocemente alcuni dei meccanismi attraverso cui i prodotti di origine animale fanno male, voi sapete che i prodotti di origine animale sono ricchi di acidi grassi saturi, i grassi della carne, del latte sono saturi e ci sono tantissimi lavori che fanno vedere che all'aumentare del consumo di acidi grassi saturi aumenta i livelli di colesterolo plasmatico. Quindi quando mi è stato dire che il colesterolo è alto perché è genetico, non è vero, non è genetico. In Cina, dove sono cambiati gli stili di vita negli ultimi 20-30 anni, il colesterolo medio è passato da 160 a 220, cioè quello che è la media in Italia, in 20 anni di cambiamento degli stili di vita. E sappiamo che all'aumentare del colesterolo aumenta drasticamente il rischio di infarto. Lo sapete che l'ipercolesteroomia, che tutti misurate dal medico, è uno dei fattori insieme alla pressione, alla glicemia, all'infiammazione, al fumo, che predice il rischio di infarto del miocardio e di scompenso cardiaco. Per quel che riguarda le proteine, ci sono sempre più studi che fanno vedere che maggiore è il consumo di proteine, più corta è la vita. Questi qua sono studi fatti da un mio collega Sidney che si chiama Steve Simpson, pubblicati su una rivista importantissima che si chiama Cell Metabolism, in cui ha preso 900 topolini, li ha divisi in gruppi che mangiavano diverse proporzioni tra calorie e proteine, più basso era il consumo di proteine, entro un certo limite fisiologico, più lunga era la durata della vita. Questo qua è uno studio che abbiamo fatto noi, negli Stati Uniti, questo qua è un modello animale di cancro alla prostata e quello che vediamo è che se riduciamo l'introito proteico dal 20% al 7% blocchiamo la crescita del tumore alla prostata, non cresce più, e anche del tumore alla mammella, questo è un tumore alla mammella estrogen positive, cioè il tipo positivo per gli estrogeni, blocchiamo la crescita. L'altra cosa che in questo lavoro abbiamo fatto, invece di ridurre la quantità delle proteine, abbiamo sostituito quelle animali con quelle vegetali e vediamo una riduzione del 50% della crescita del tumore. Quindi questo ci fa capire che la qualità delle proteine, degli amminoacidi è importante tanto quanto la quantità. Questo è uno studio che abbiamo appena finito sull'effetto della restazione proteica negli uomini, abbiamo praticamente per quattro o sei settimane alimentato, colazione, pranzo e cena queste persone, nel gruppo in cui abbiamo dato che le proteine mangiavano in circa 64 grammi al giorno di proteine rispetto a circa 100 che mangiava il gruppo di controllo. Anche se questa qui non era una dieta ipocalorica, cioè le calorie erano le stesse che mangiavano prima, abbiamo ottenuto, riducendo le proteine, una riduzione di 2,6 kg del peso in soltanto 4 settimane, non male, una riduzione della massa grassa, del colesterolo di 10 punti significativo, una riduzione della glicemia, della proteina ciriattiva che si è dimezzata da 3,9 a 1,9 e un raddoppiamento dell'FGF21. Voi vi dite ma cos'è questo FGF21? Questo è un fattore di crescita che stiamo studiando ultimamente, molto importante, perché nei modelli sperimentali i topolini che hanno più HF21, vedete, vivono molto più a lungo. Quindi è interessante che basta manipolare l'introito proteico, ridurlo per aumentare in maniera importante anche nell'uomo un fattore che aumenta la longevità nei topolini. Altro lavoro molto importante, questo non è mio ma di una mia collega che si chiama Bettina Montendorfer che veramente, insieme a quello che abbiamo fatto noi, pone una pietra a miliare. Voi sapete che ultimamente, negli ultimi anni, c'è questa moda che per perdere peso bisogna mangiare un sacco di proteine. Quindi ovunque sento tutti, ah, io non mangio più carboidrati, proteine, 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 perché così perdo peso. Si chiama Atkin Diet, la Duncan Diet, adesso va di moda la Paleo Diet. Allora, in questo studio la mia collega ha preso delle donne obese e le ha divise in due gruppi. Tutte e due, alla fine dello studio, devono perdere il 10% del peso rispetto al baseline. Cioè significa che se pesavano 100 chili, alla fine dello studio devono pesare 90 chili. Ok? Però una metà doveva perdere il peso con una dieta iperproteica, 1,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo. L'altra metà doveva perdere lo stesso peso con una dieta ipoproteica, 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Quello che Bettina ha dimostrato con delle metodiche super sofisticate, loro sono uno dei più prestigiosi laboratori per misurare l'insulino sensibilità, cioè il nostro rischio di sviluppare diabete con delle metodi sofisticate, che le donne che hanno perso peso sulla dieta iperproteica non hanno avuto nessun beneficio in termini di insulino sensibilità. Cioè significa due cose. Numero uno, che non è vero che una caloria è una caloria. E numero due, che queste diete iperproteiche fanno male. Cioè praticamente anche se perdete peso non avete un beneficio in termini di insulino sensibilità che è la stessa via di segnale che promuove l'invecchiamento. Quindi state lontani da queste diete iperproteiche. Questi qua sono lavori pubblicati su Cell Reports, che è una delle riviste più importanti al mondo. Non sono lavori fatti da qualche gruppo di pazzi, cioè sono veramente lavori solidi, ben fatti, che vanno a complementare i nostri. Bisogna mangiare proteine nella giusta quantità, perché noi abbiamo bisogno di proteine, però nella giusta quantità e nella giusta qualità. Altro lavoro a supporto di questa idea, questo qua è un lavoro che abbiamo pubblicato noi su Science nel 2011, in cui abbiamo visto, voi sapete che noi nel nostro intestino abbiamo trilioni, miliardi di batteri che non stanno lì a fare niente. Non è che noi abbiamo miliardi di batteri che sono lì a soggiornare. No, il nostro cibo lo digeriscono, producono dei metaboliti che vengono assorbiti nel nostro sistema sanguigno e vanno in circolo. E quello che abbiamo visto è che sia negli uomini che negli animali, di tutti i nutrienti, le fibre e le proteine sono due degli nutrienti più importanti per regolare i tipi di batteri e la funzione di batteri che vivono nel nostro intestino. Faccio due esempi. Abbiamo scoperto, non io ma il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Cleveland Clinic negli Stati Uniti, che è una dieta ricca di proteine animali, soprattutto di L-carnitina, che sapete è quell'aminoacido di cui si abusano i culturisti, e di colina, viene metabolizzata dai batteri intestinali a produrre un metabolita che si chiama TMAO, che è proaterogeno, cioè aumenta il rischio di infarto, non solo negli animali, questo è un paper pubblicato su New England, Journal of Medicine, che è la rivista più importante al mondo per i medici, che questo TMAO aumenta il rischio di infarto del 20% indipendentemente dai classici fattori di rischio cardiovascolare. Fatemi riassumere. Cioè, a parte tutte le cose che ho fatto vedere gli acidi grassi, le proteine o del genere, le proteine, alcuni aminoacidi vengono metabolizzati dal batterio intestinale a produrre un metabolita che aumenta il rischio di infarto indipendentemente dagli altri.